Allora, in questo video facciamo un'altra breve sintesi della psicanalisi, schematizzandola ulteriormente. Abbiamo detto che la psicanalisi è legata al nome di Freud, anche se Freud ha creato, sulla base di una serie di controversie legate alla teoria della sessualità, alla scoperta della sessualità infantile, ha creato una sorta di movimento psicanalitico che poi ha subito delle scissioni e che si è diviso, diciamo, idealmente in due gruppi, quello degli ortodossi, rappresentato da Abraham, da Ferenzky, che erano, diciamo, i psicanalisti che applicavano la lettera, il pensiero e le teorie di Freud, quello dei revisionisti, tra cui Adler, tra cui anche lo stesso Jung, se vogliamo, insomma, anche tutti gli psicanalisti della scuola di Francoforte, con a capo Erich Fromm, ed altri ancora, insomma, revisionisti, appunto, perché hanno edulcorato un pochino alla teoria freudiana, introducendo anche degli elementi di carattere psicologico-sociale, culturale, eccetera. La psicanalisi, quindi, sostanzialmente, è una, abbiamo detto più volte, che una terapia psichica, nasce proprio come terapia dell'inconscio, è una teoria della personalità, ed è anche una filosofia sociale, perché Freud, può essere considerato anche un filosofo, ha scritto tante opere importanti sul rapporto individuo-società, una di queste è la psicologia delle masse, l'analisi dell'io, nel quale Freud ripropone in maniera ripetuta le teorie di Gustave Le Bon, un suo precursore per quanto riguarda proprio gli studi sulla psicologia delle masse, distinguendo, appunto, una psicologia dell'io razionale da una psicologia che si incontra nei fenomeni collettivi, quindi nella cosiddetta psicologia delle masse. Un'altra opera importante, l'abbiamo già detto, è Il disagio della civiltà, nel quale, appunto, si descrive questo conflitto tra individuo e società. Vediamo un pochino la teoria delle personalità. Nella trattazione che riguarda, appunto, le teorie delle personalità, Freud distingue due punti di vista. Il primo punto di vista è quello propriamente detto topico, perché ha come riferimento la configurazione della psiche, in senso proprio toponomastico, topologico, topica, appunto, vuol dire individuazione dei luoghi, regioni, quindi la psiche umana è un pochino l'insieme di tre regioni ed è paragonabile ad un iceberg, e lui utilizza spesso, diciamo, questa metafora dell'iceberg. C'è una parte che emerge dall'acqua, che è la parte conscia, la parte intermedia, che è quella preconcia, e la parte che sta sotto l'acqua è quella, diciamo, più importante, quella prevalente, la parte inconscia. Successivamente Freud individua un'altra teoria, quella delle tre istanze, istanze vuol dire processi, e ci parla di una metafora, la metafora che viene utilizzata per descrivere questa teoria, la metafora della pentola a pressione. Queste tre istanze sono l'ess che risponde al principio di piacere, l'io che risponde al principio di realtà, e il superio che è la coscienza morale, il grillo parlante che si forma nel bambino quando il bambino ha risolto, per così dire, il complesso di Edipo, che insomma rappresenta una tappa cruciale nel processo di individuazione. Sostanzialmente, diciamo in maniera molto schematica, diciamo che l'essere inconscio, l'io non è completamente conscio, non rappresenta completamente la coscienza, ma è per metà, per così dire, conscio e inconscio, perché la parte inconscia sviluppa i cosiddetti meccanismi di difesa che poi sono stati trattati, sviluppati dalla figlia di Freud, Anna, e quali sono questi meccanismi di difesa? La rimozione, la sublimazione, la formazione reattiva, la proiezione, eccetera. Sono appunto meccanismi che si sviluppano inconsciamente e che l'io mette in atto per fronteggiare le esigenze che provengono dall'esse e quelle che provengono dal superio, che rimane, diciamo, completamente inconscio, appunto rappresenta la coscienza morale. Abbiamo detto che tra i seguaci di Freud ci furono molti contrasti interni, soprattutto sulla teoria della sessualità, sulla sessualità infantile e questo appunto provocò una scissione e anche lo stesso Breuer si allontanò dal socio Freud, soprattutto sulla considerazione della sessualità infantile che per Freud veniva appunto intesa come una sessualità pregenitale, perversa e polimorfa. Grazie.